Da domani, lo prometto, incomincieremo a fare dei video per parlare delle tecnologie che utilizziamo al nostro interno e che danno valore aggiunto ai nostri clienti. Ma in questo momento non mi è facile parlare di questa cosa qua perché sono troppo concentrato sulla follia che ci sta continuando ad attanagliare. Non possiamo continuare a vivere con questa fobia di una cosa che non esiste, che è poco più di un'influenza e che non dobbiamo stare vicino a un altro, dobbiamo avere questa mascherina, non possiamo portare due paste in un'azienda perché a un certo momento possiamo contagiare le altre persone, dobbiamo lavorare da casa in smart working con delle perdite di tempo inenarrabili, non lo so, quando si lavora in ricerca e sviluppo è fondamentale essere gli uni attaccati agli altri, scambiarsi le idee anche alla macchinetta del caffè. Bene, tutto questo non può essere fatto perché è fonte di contagio, ma vogliamo svegliarci e smettere di continuare a credere a queste cassate? Ecco, questa è la cosa più importante. Poi dopo cominciamo a parlare del resto.